Sono al servizio della prevenzione dei tumori femminili da oggi, due nuovi e moderni ecografi. Grazie alla solidarietà del territorio aquilano, l'Associazione Salute Donna, Ollus, sezione dell'Aquila, ha potuto acquistare questi due strumenti, di cui uno ho donato, nel corso di una cerimonia svoltasi ieri presso la Sala Alice del Broglio dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, al reparto di senologia dello stesso nosocomio. Questa macchina andrà ad implementare l'attività dell'Unità Operativa di Chirurgia Senologica, che si dota così di ben quattro ecografi, su cui lavoreranno altrettanti medici, aumentando in maniera importante il numero delle prestazioni di diagnostica e cura. Il secondo macchinario portatile sarà utilizzato per portare questo fondamentale servizio sul territorio e per raggiungere tutte quelle donne che, per svariati motivi, non possono recarsi presso il presidio ospedaliero del capoluogo. Attività quest'ultima che sarà portata avanti dai professionisti che fanno parte dell'associazione. Tutto nasce dalla generosità umana, dichiara la responsabile della sezione aquilana, Maria Rita Gliaci. Un aquilano che vuole restare anonimo, legge per caso il nostro progetto Uscite Fuori Porta, che all'interno di portare al di fuori delle mura cittadine il concetto della prevenzione, lo trova interessante e mette in moto una rete di aiuti fra imprenditori. Alla cerimonia svoltasi ieri all'ospedale dell'Aquila hanno presenti il direttore generale della Aslo 1, Roberto Testa, il responsabile dell'unità operativa di chirurgia senologica dell'ospedale dell'Aquila, Alberto Bafile, il presidente della fondazione Carispac, Domenico Taglieri, il direttore di Ance e l'Aquila, Lucio Coccetta, il comico Uccio De Santis e tutte le volontarie dell'associazione Salute Donna Ollus